Ci sono delle indicazioni che certe terapie, cosiddette naturali, hanno benefici per pazienti astmatici, cioè la presenza, la permanenza delle caverne dove l'umidità è alta e la temperatura è bassa e anche la presenza in piscine dove anche l'umidità è alta. Però abbiamo solo indicazioni, non è stato provato che queste terapie funzionano e questo è l'oggetto di questa ricerca. Vogliamo provare se queste due terapie, una la caverna, due la piscina, hanno degli effetti su bambini astmatici.